C'è una foto dopo. Come ti chiami? Mi chiamo Alessandro Fiorentini e sono il fotografo del Papiglio. Ci dici come si svolge il tuo lavoro qua? Il mio lavoro è quello di raccontare quello che succede all'interno e all'esterno, visto che siamo all'aperto, dei vari locali come il Papiglio. E come fai? Io faccio tanti scatti, inizio da quando arrivano le persone, da quando inizia la serata, fino al momento clou, al momento più bello di quando tutti si divertono. E il mio scopo è proprio quello di far vedere alle persone come si divertono. E riesci a centrare l'obiettivo? L'obiettivo, visto che ce l'ho l'obiettivo, lo centro di solito. Bene, allora devi dire grazie a Spezia TV? Ringrazio Spezia TV per questa intervista e benvenuti al Papiglio. Grazie, ciao! Ciao!